Ciao a tutti qui a Vasto di Simo Games con un nuovo video Allora Come potete vedere sono passato a Windows 7 O anche si può chiamare Windows 7 E quindi farò video tutorial su Windows 7 Ma farò anche altri tutorial su Windows XP Come Minecraft se farò qualcosa, qualche video lo farò su XP Perché su questo qui 7 E qui ho il portatile e non mi gira bene La grafica lagga sempre E quindi se li farò li farò su XP E intanto per gli utenti, i pochi utenti Ubuntu Che guardate video su Ubuntu Per adesso non li farò Anche se ne faccio pochi ugualmente però non li farò per adesso Perché devo installare Virtual Machine, VirtualBox Per mettere Ubuntu E niente Poi verso novembre farò anche il Mac E farò anche video su Mac E... ok Niente Grazie a tutti per la visione Nel prossimo video Ciao Grazie a tutti per la visione